ma già dal secondo giorno mi toccò andare a dormire all'albergo e sapevo in anticipo che fatalmente vi avrei trovato la tristezza era come un aroma irrespirabile che ogni camera nuova esalava per me fin dalla nascita vale a dire qualsiasi camera perché nella mia dove vivevo di solito non ero presente la mia mente era altrove e al suo posto mandava l'abitudine ma non potevo ora incaricare quest'ancella meno sensibile di me di occuparsi dei fatti miei in un paese nuovo dove la precedevo dove arrivavo da solo dove dovevo far entrare in contatto con le cose quel mio io che ritrovavo soltanto a intervalli di anni ma sempre lo stesso non essendo cresciuto dal tempo di combrè dal mio primo arrivo a balbec seduto in lacrime inconsolabile su un angolo di un baule disfatto invece mi ero ingannato non ebbi il tempo di essere triste perché non rimasi solo nemmeno un istante dell'antico palazzo restava un sovrappiù di lusso inutilizzabile in un albergo moderno e che privo di qualsiasi destinazione pratica aveva assunto in quel lungo ozio una sorta di vita corridoi che tornavano sui loro passi di cui si incontravano ad ogni momento gli andirivieni senza scopo atri lunghi come corridoi e arredati come salotti che avevano l'aria di essere lì provvisoriamente più che di far parte dell'abitazione e che non essendo stato possibile annetterli a nessun appartamento vagavano attorno al mio e vennero subito ad offrirmi la loro compagnia sorta di vicini oziosi ma non fracassoni di fantasmi subalterni del passato cui fosse stato concesso di sostare in silenzio davanti alla porta delle camere dei clienti e che ogni volta che li trovavo sulla mia strada mi testimoniavano le loro tacite attenzioni insomma l'idea di un alloggio semplice contenitore della nostra esistenza attuale capaci di preservarci semplicemente dal freddo e dalla vista degli altri era assolutamente inapplicabile a quella di mora insieme di stanze reali quanto una colonia di persone la cui vita sia pur silenziosa ero obbligato ad incontrare evitare o accogliere ogni volta che rientravo si era spinti a non disturbare e non si poteva non considerare con rispetto il grande salone che aveva preso sin dal diciottesimo secolo l'abitudine di sdraiarsi tra le sue colonnine di oro vecchio sotto le nubi dipinte sul soffitto mentre si era colti da una curiosità più familiare per le innumerevoli stanzette che senza alcuna preoccupazione della simmetria correvano attorno al salone centrale e stupite fuggivano in disordine fino al giardino dove scendevano come se niente fosse per mezzo di tre gradini sbrecciati se volevo uscire o rientrare senza prendere l'ascensore né essere visto sullo scalone una scala più piccola privata fuori uso mi offriva i suoi gradini posati con tale maestria l'uno sopra l'altro che sembrava esistere nella loro progressione una proporzione perfetta simile a quella che nell'ambito dei colori dei profumi e sapori sollecita in noi una particolare sensualità ma quella che si può provare a scendere e salire una scala avevo dovuto venire fin qui per conoscerla come un tempo ero dovuto andare in una località montana per sapere che l'atto di respirare di solito inavvertito può essere una continua volutà quando posai piedi per la prima volta su quei gradini familiari già prima di conoscerli mi sentì dispensato da quello sforzo che ci concedono solo le cose di cui ci serviamo abitualmente quasi quei gradini possedessero forse depositata incorporata in loro dai padroni di un tempo che li salivano ogni giorno la dolcezza anticipata di abitudini che non avevo ancora acquisito e che anzi non avrebbero potuto che indebolirsi quando mi sarei abituato ad essi aprì una camera la doppia porta si richiuse dietro di me e le tende lasciarono entrare un silenzio che mi diede quasi un inebriante sensazione di regalità un cammino di marmo ornato di rami cesellati che a torto si sarebbe creduto sapesse rappresentare soltanto l'arte del direttorio mi offriva del fuoco e una bassa poltroncina mi aiutò a scaldarmi così confortevolmente come fossi stato seduto sul tappeto le pareti restringevano la stanza separandola dal resto del mondo e per far posto e contenervi mobili che così la rendevano completa si scostavano dinanzi alla biblioteca creavano un vano per il letto sui lati del quale due colonne sostenevano leggermente il soffitto sopraelevato dell'alcova e la stanza era prolungata in profondità da due salottini larghi quanto la stanza stessa di cui l'ultimo aveva appeso alla parete per profumare il raccoglimento che si veniva a cercare un voluttuoso rosario di semi di iris le porte se le lasciavo aperte mentre me ne stavo ritirato in quell'ultimo rifugio non si contentavano di triplicarlo lasciandogli una sua armonia né di farmi gustare il piacere dell'estensione dopo quello della concentrazione ma aggiungevano al piacere della mia solitudine che restava inviolabile ma non opprimente il sentimento della libertà questo salottino dava su un cortile bello solitario e che fui felice di avere per vicino quando l'indomani mattina lo scoprì prigioniero tra le sue alte mura su cui non si affacciava nessuna finestra e con due soli alberi ingialliti che bastavano a dare una dolcezza color malva al cielo puro prima di coricarmi voglio uscire dalla mia stanza per esplorare tutto il mio magico regno camminai seguendo una lunga galleria che mi fece successivamente omaggio di tutto ciò che aveva da offrirmi se per caso non avessi avuto sonno una poltrona messa in un angolo una spinetta su una mensola un vaso di ceramica blu pieno di cinerarie e in un'antica cornice il fantasma di una dama di altri tempi con i capelli incipriati disseminati di fiori azzurri e in mano un mazzolino di garofani arrivato in fondo il suo muro pieno sul quale non si apriva nessuna porta mi disse semplicemente ecco ora bisogna tornare indietro ma vedi sei a casa tua mentre il morbido tappeto per non essere da meno aggiungeva che se non avessi potuto dormire quella notte avrei potuto benissimo venire fin lì a piedi nudi e le finestre senza imposte che si affacciavano sulla campagna mi assicuravano che avrebbero passato la notte in bianco e che venendo lì a qualsiasi ora non dovevo temere di svegliare nessuno dietro una tenda sorpresi un piccolo gabinetto che bloccato dalla parete e non potendo scappare si era nascosto là dentro tutto vergognoso e mi guardava spaventato con il suo occhio di bue che il chiaro di luna rendeva azzurro